di accompagnare le disposizioni naturali del bambino e in primis ho dovuto farlo anche con Francesca che ha seguito l'istruzione familiare da grande non da piccola perché Francesca insomma ha lasciato la scuola pubblica durante la prima liceo e ecco diciamo che in concreto ho dovuto accompagnarla proprio per intanto innanzitutto lasciarle il tempo di capire quali fossero queste disposizioni naturali perché sappiamo insomma che un bambino che esce dal percorso scolastico ha bisogno sicuramente di un tempo personale diciamo così di solito si parla di un mese per ogni anno di scuola però penso che il tempo sia molto molto personale nel quale insomma si fa quella destrutturazione di cui parlava anche Serena che abbiamo dovuto fare che dobbiamo fare noi come educatori di una scuola parentale ma che un ragazzo che lascia la scuola deve fare anche esso insomma per lasciarsi alle spalle un po' tutto il sistema insomma nel quale era immerso il sistema di apprendimento per cui anche Francesca insomma ha avuto bisogno di un bell'anno penso un bell'anno di di vuoto diciamo così di vuoto per cercare di capire con cosa riempire questo questo vuoto di interesse per far ritornare la motivazione ecco però se partiamo da parlare di bambini piccoli insomma la cosa diventa differente ma io volevo anche sollecitare una domanda e far pensare tutti quanti di noi stanno facendo un lavoro che piace e che è in linea con le capacità le attitudini personali quanti di noi lo stanno facendo e sono soddisfatti del lavoro che fanno che robinson direbbe ecco io devo lasciarvi anche qualche spunto di lettura così insomma lasciandovi anche degli elementi su di poter approfondire delle cose che abbiamo anche detto questa sera che robinson ad esempio parlerebbe di elemento cioè il punto in cui le cose che si amano fare e quelle per cui siamo portati si trovano insieme e trovarlo insomma nel percorsi scolastici classici diventa sempre sembra di essere diventato molto difficile e però per la felicità dei nostri figli almeno per quello che ho visto insomma per la mia esperienza personale trovare il sapere dell'anima è trovare la misura del proprio esistere la direzione e il ritmo del proprio camminare nel tempo e qua a dirlo è Ligine Mortari una filosofa dell'università di Verona che Serena Olivieri mi ha fatto conoscere e che ho amato subito per cui io di solito parto dal presupposto e come praticienne del Clollier parto sempre dal presupposto e credo che ogni bambino venga al mondo con un so zainetto pieno di creatività, di curiosità ed entusiasmo che l'accompagna nella crescita nella quale si dispiega la vocazione, il destino, il carattere, l'immagine innata di cui parla Hilman ed è la teoria della ghianda anche questa è una lettura molto interessante da fare o come pure direbbe Rogers l'essere umano ha in sé una forza interna che direziona la vita e che si chiama e che mi chiama tendenza attualizzante perciò ecco interrompere appunto questo gioco questo gioco libero che dovremmo invece tutelare è come se dicessimo al bambino tu non sei adeguato così come sei devi soddisfare le aspettative di questo mondo e degli adulti che ti sono intorno per cui insomma arriva un messaggio veramente distorto quindi l'educatore deve vigilare affinché queste disposizioni naturali di cui è dotato il bambino non vengano deviate appunto come si diceva prima da pratiche condizionanti e coercitive quindi parliamo di apprendimento non direttivo e apprendimento naturale e da qui eliminiamo le aspettative le aspettative di noi genitori che vorremmo magari che i nostri figli diventassero che ne so ingegnere avvocato senza guardare magari al bisogno effettivo di apprendimento che ha un bambino piuttosto che quello che vogliamo noi che faccia in questa cornice il compito dell'educatore è facilitare l'accesso alla conoscenza come si diceva anche prima cogliendo le curiosità e le domande del bambino là dove sorgono e si formano senza fornire risposte preconfezionate per non intracciare il bambino nelle sue scoperte è necessario avere un atteggiamento problematizzante come parla di questo atteggiamento problematizzante ne parla Paul Freire nel suo La pedagogia degli oppressi scrivendo L'educazione problematizzante contrariamente a quella depositaria è intenzionalità perché risposta a ciò che la coscienza profondamente è e quindi rifiuta i comunicati e rende esistenzialmente vera la comunicazione e da questo si deduce che non c'è conoscenza senza un processo relazionale trasformativo tra bambino ed educatore o tra bambino ed adulto ecco in questo caso stiamo parlando di educatore perché ci riferiamo alla possibilità di frequentare una scuola parentale come fosse il Creativity Garden di Canale Scuola però ogni relazione è trasformativa e quindi anche di apprendimento accompagnare le disposizioni naturali del bambino prevede anche che l'educatore lo lasci sbagliare e quindi prevede anche l'autocorrezione e non è facile non è facile poi se parliamo di una scuola democratica non direttiva e ametodica come direbbe la Luigina Mortari sempre è riferimento per accompagnare il bambino a vivere un'esperienza in costante evoluzione che non prevede piste già tracciate come diceva prima Serena che la mattina ci si sveglia e non è che abbiamo il programma ma si fa un'assemblea e si decide insieme ai bambini cosa fare come farlo dove andare un camminare quindi accompagnato da un pensare il cammino che si sta tracciando quindi un pensiero che va di pari passo con l'esperienza che si sta facendo e per metodo ametodico si intende un modo di approcciarsi al sapere esperienziale quindi privo di regole e di forma esso non si struttura attraverso un processo lineare e sequenziale ma salta fuori imprevisto germinato da un istante di lucidità una lucidità oltre la coscienza quindi l'approccio all'istruzione così privato della sua natura unilaterale trasmissiva viene vivificato calato dentro la realtà intriso di verità e diventa fecondo generativo e creativo il facilitatore quindi ecco io amo definire così l'educatore facilitatore di processi di apprendimento a fianco al giovane apprendista per accompagnarlo avvalendosi della sua maggiore esperienza e competenza è quello insomma che un adulto dovrebbe fare anche la famiglia dovrebbe fare insomma è la relazione che trasforma il mio modo di essere perché conosco e vengo a contatto con un altro che è diverso da me è nella relazione e nei mille modi che abbiamo di intrecciare le nostre differenze che è possibile creare qualcosa di nuovo e di diverso è il nuovo è l'evoluzione di ciò che c'era prima andare incontro al nuovo al differente da me significa avere la capacità di adattarsi alla vita di intersecare di intersecare le traiettorie dell'esistenza di chi è vicino affinché la vita trovi nuovi modi di essere di esprimersi e di perfezionarsi ma è nella natura dell'essere umano il creare dal nulla guidati dall'entusiasmo che appunto nel greco significa è in teos il dio avere il dio dentro l'apprendimento e la conoscenza e la conoscenza passano attraverso la relazione e il bambino quindi che chiede aiuto per svolgere un'attività esprime il suo bisogno di relazione e da qui insomma penso sia imprescindibile passa passa l'apprendimento ecco e deve essere questa un po' la postura dell'educatore che vediamo anche educatore o dell'adulto insomma che così definiamo un po' nel Creativity Garden